Ecco qua anche la nostra sigla è finita, buonasera a tutti bentrovati, prima di cominciare la lezione chiediamo a tutti anche a casa di mettere qualche moneta in sedacà, questa lezione la dedichiamo al nostro caro amico Elia Senese che è sempre vicino, sempre in prima linea aiutarci a andare avanti, Romana Gatti è per l'entrata, Rachel Mazzusa per l'entrata, buonasera, buonasera a tutti bentrovati, stasera studieremo la parashat, abbiamo due parashat, però prenderemo, come settimana scorsa abbiamo fatto, prenderemo una mishnah del trattato del Pirkei Avò, delle massime dei padri, siamo al terzo capitolo che leggeremo questo Shabbat e perciò stasera studieremo appunto uno dei passi della mishnah, impareremo una cosa molto molto importante, però prima di cominciare ho una storia da raccontare, come dicevo prima Nicole Picciotto Marascalchi stai qui che parleremo di te, è una storia che è successa con lei che lei appunto mi ha raccontato, mi ha mandato un audio, mi ha raccontato, lei si trova in Israele praticamente Nicole è una ex milanese che adesso ha fatto l'alià da anni ormai con la sua famiglia e lei finalmente dopo anni e anni è riuscita a aprire, prima insegnava, lei è un'ottima insegnante dei bambini piccoli di asilo, asilo nido e così via, prima insegnava altrove adesso pian piano si è aperta il proprio asilo, il gan come si dice in Israele benissimo, una volta succede, questa è una storia di gennaio, periodo di Hanukkah succede che una signora, siamo in Israele, una signora sta passando in macchina e vede tre bambini piccoli, di un anno e mezzo o due, proprio piccoli, per strada da soli, incustoditi e lei capisce, si ferma la macchina, prende questi tre bambini e si accorge che questi tre bambini erano scappati, o comunque si, erano scappati, non abbastanza bene custoditi da un asilo nido che era vicino all'asilo di Micol, perciò nella stessa strada c'erano due asili nido, questa signora va a bussare, a suonare in quell'asilo nido e dice questi bambini appartengono a voi e loro li prendono in malomodo e non ringraziano neanche e in effetti i bambini erano di quella scuola lì. Adesso cosa succede? Essendo che le due scuole, l'asilo nido erano vicini una all'altro, proprio stessa via civico vicino, uno di fronte all'altro diciamo, tutti pensavano che questo asilo che aveva, che non teneva bene i bambini fosse l'asilo appunto della nostra amica Micol, perciò lì tutti hanno cominciato a scrivere e a parlare male di come questa ragazza non è badante abbastanza dei bambini eccetera eccetera e tutti pensavano che appunto fosse lei, finché addirittura cominciano a scrivere nei vari gruppi di Facebook dicendo che quel tal asilo nido della Micol, fate attenzione perché oggi è successa questa storia che una donna ha trovato tre bambini per strada da soli. Una delle mamme che invece ha il bambino da Micol, se non ho capito male, lei sapeva benissimo che la storia non è andata in questi termini, che si trattava di un altro asilo nido ma non di quello di Micol, ha cominciato a ribattere a tutti quelli che scrivevano su Facebook o dovunque scrivevano dicendo che no vi sbagliate non è l'asilo di Micol che ha fatto questo misfatto bensì l'asilo di fronte a loro che appunto non hanno avuto la capacità di tenere questi bambini. Anzi lei comincia a dire che Micol invece è molto professionale, i miei figli vanno lì perciò io so come lei lavora e tutti hanno cominciato a leggere che c'è qualcuno che prende le difese di Micol. Allora pian piano cosa succede? Cominciano tutti a scrivere complimenti, i vari genitori, altre persone si cominciano a complimentare in modo visivo su come lei opera, su come lei insegna e così via e cosa succede? Succede che un giorno lei riceve una telefonata, Micol, da una ragazza che dice guarda io sto cercando da tempo che vorrei fare la maestra e io sono qualificata per questo lavoro che tu hai, solo che non ti ho mai chiamato, non so non avevo questo feeling verso di te, non so perché non ti ho mai chiamato, avevo un cicavo lavoro ma non ti ho mai chiamato. Adesso che ho letto tutte le risposte su Facebook che è di come la gente ti parla bene di te, di come sei professionale, come sei gentile ed è bello avere a che fare con te, ho deciso di venire a chiederti di fare un colloquio di lavoro e di venire a lavorare per te. Micol mi dice che lei è da Chanukah, da gennaio, che ha necessità di un'altra maestra e dice se in mesi, infatti lo so benissimo anche io perché anche a scapito mio, visto che il nostro tecnico Edoardo è il marito di Micol, allora per tanti mesi, molte volte doveva andare all'asilo unico a aiutare Micol a fare supplenze eccetera eccetera, a scapito dei miei video, delle nostre lezioni, del nostro sito e così via. Parentesi, ok va bene così. Perciò lei dice io avevo bisogno di una maestra, adesso cosa succede? Questa bolla di sapone che si è creata, che all'inizio pensavano che era male per me, io adesso pensavo che basta, la mia carriera ormai di asilo va a finire, se tutti parlano male di me, nessuno verrà più da me. Invece no. Cosa si è scoperto? Che non soltanto ha trovato una maestra molto brava, altri genitori che hanno sentito elogi su Micol hanno deciso di andare appunto a portare i propri bimbi nell'asilo nido di Micol. Perciò qua cosa vediamo? Qua vediamo un po' come quello che ho raccontato nel video breve di un minuto che ho mandato oggi, qua vediamo che cosa? Che a volte c'è una bolla, a volte sembra che c'è qualcosa che va contro di noi, sembra che il mondo è finito, sembra che ormai non possiamo più andare avanti, invece vediamo che tutto quello che sembra negativo alla fin fine tutto è per il bene. Vedete noi non siamo, noi dobbiamo abituarci a guardare con gli occhi di Dio, come Dio si comporta in questo mondo. È tutto sotto la divina provvidenza, infatti lei si chiedeva, ma Dio cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male per meritarmi che tutti parlano male di me? Ma poi vediamo che da una parola brutta è venuto fuori il contrario e lei ha soltanto guadagnato di questa situazione. Perciò molte volte quando abbiamo, come dicevo prima, la nuvoletta nera che ci piove addosso, tipo fantossi, che piove solo su di noi e che noi pensiamo che tutto va storto solo a noi e che non ci meritiamo. La Torah ci insegna, Micol ci insegna che ha col le tova, tutto è per il bene. Quando ti succede quella cosa che ti fa soffrire, ti fa stare male, ti sembra che ti sta bloccando, calma, aspetta, guarda che tipo di disegno Dio ha in mente per te. Non saltare subito a conclusioni affrettate che per te la vita è finita. Questo è il messaggio, grazie Micol per questa storia, non è la prima storia che Micol ci racconta, nell'arco degli anni ci ha raccontato tante belle storie che abbiamo anche raccontato a voi, che Dio vi benedica che siete in Israele, che possiate sempre crescere, migliorare e finché tutti noi possiamo anche arrivare in Israele insieme con Mashiach. Benissimo, cominciamo la nostra lezione. Siamo appunto al terzo capitolo dei Pirke Avot, delle Massime dei Padri e leggiamo la Mishnah numero due, che dice così, la leggerò in italiano, Rabbi Hanina, è il nome di questo Rabbi, che lui era il capo assistente del sommo sacerdote, del Kohen Gadol, perciò lui era una grande posizione. Lui diceva una cosa molto interessante, dava l'insegnamento, prega per il benessere e il successo dello Stato, perciò del regno, del regime, dello Stato, dove ti trovi, se c'è un regno, se c'è un... quello che è, lì dove abiti prega sempre che lo Stato d'Italia, per esempio, abbia benessere, abbia successo, perché? Perché lui, perché Rabbi Hanina, devi dire una cosa, un insegnamento del genere, prega per lo Stato o prega per il re del tuo paese, perché? Perché se lui ha benessere, cosa succede? Tu anche stai bene, perché in assenza di timore, se non c'è timore per lo Stato, cioè la gente se ne infischia delle regole dell'Italia, dello Stato dove vive, le persone si divorerebbero viva, vive l'un l'altra. Perciò qua Rabbi Hanina dice, non pensare che devi pregare soltanto per lo Stato di Israele, no, dovunque tu ti trovi, prega per lo Stato di dove ti trovi, del tuo paese o del tuo re, perché? Se il re, se il posto ha successo, perciò le persone hanno timore, le regole, seguono le regole, tu anche vivi bene, la tua comunità vive bene, la tua famiglia vive bene. Se invece siamo come nel Far West, che nessuno dà importanza allo Stato, cosa succede? Ci si mangia a vicenda l'un l'altro, vivi, si inghiotteranno l'un l'altro a vicenda. Poi la Mishnah va avanti e porta altri insegnamenti, ma non è, vogliamo addentrarci adesso in questo unico insegnamento qua. Infatti uno dei maestri porta l'esempio a dire cosa vuol dire che uno inghiottisce e divora l'altro, come i pesci, no? Così come il pesce grande mangia il pesce piccolo, allora se non c'è timore delle regole, succederà anche tra gli umani che l'umano più grande inghiottirà, farà fuori l'umano che è più debole, il più forte vincerà sul più debole, brevemente. Adesso cerchiamo di capire questa Mishnah, questo insegnamento un po' strano a priori. Abbiamo già spiegato la settimana scorsa, lo ripetiamo, per chi ha voto il trattato delle massime dei padri, si chiama Mila de Chaseduta, vuol dire, parole di chasedut, vuol dire insegnamenti morali, insegnamenti per essere persone extra ordinarie, non di fare quello che è la regola, ci sono di fare quello che è di più, persone pie, persone che vogliono veramente prendere insegnamenti dai nostri maestri per condurre una vita al massimo. Perciò qui noi stiamo dicendo uno inghiottisce l'altro, vuol dire uno ammazza l'altro, perché quando tu inghiottisci lo stai uccidendo. Allora, come mai, se il perché ha voto il massimo dei padri non è un libro di regola, abbiamo spiegato, non è un libro di halakha o di cose simili, ma insegnamenti morali, etici, perché mi viene a dire una cosa che è un halakha, una regola? In dieci comandamenti c'è scritto non uccidere, è un comandamento, allora perché qui, è perché Evoa non deve parlare di regole, di regole di halakha, di legge ebraica, ma questo è un halakha, non uccidere è un comandamento, un halakha, perché prende una questione di halakha e lo mette nel libro dell'etica. Ovvio che non bisogna uccidere, ma non devono dirmelo loro, è già scritto nei dieci comandamenti, l'ha già detto Dio a priori. Perciò, e questo di non uccidere tra l'altro è una delle cose fondamentali che nessun umano decente fa a una cosa del genere, è una cosa principale, fondamentale e non una cosa extra, come dicevo prima, il perché a volte ci insegna a fare cose extra, non cose basilari, questa invece è una cosa di vitale importanza, basilare. C'è da dire che il perché a volte, se fate caso, non ha scritto non uccidere, però parla di divorare. Perciò, visto che i nostri maestri usano il verbo divorare, inghiottire, piuttosto che uccidere, come nella Torah scrive non uccidere, vediamo che ci stanno dando, in realtà, un altro insegnamento. Vuol dire, non è vero che sembra una cosa fuori in luogo, quello che abbiamo spiegato, in realtà non sta parlando di una vera e propria uccisione, ma sta parlando di un'altra cosa. Adesso noi andremo a studiare, impareremo una cosa che il Rebbe, tanti anni fa, ha spiegato a proposito, appunto, di questo trattato, di questa Mishnah che stiamo studiando noi stasera. Lui dice il seguente, fa sottolineare il fatto che la Mishnah dice una persona mangerà vivo l'un l'altro, non che lo ammazza e poi lo inghiottisce, lo inghiottisce vivo. Questo è quello che i precavoci ci dicono. Vuol dire io non voglio ucciderti, io non voglio farti del male, ti voglio vivo, lungi da me, volerti ammazzare. Voglio che tu sia vivo, ma voglio che tu sia dentro di me. Voglio inghiottito, che tu sia inghiottito da me. Cosa vuol dire voglio che io sia inghiottito da te? Può significare tante cose. Può essere, per esempio, una persona che ha la mania del controllo. Tu ogni cosa che fai deve essere sotto il mio controllo, con il mio permesso. Vuol dire non ti voglio uccidere, ti voglio vivo, però sottomesso a me, inghiottito a me, dentro di me, che sei parte di me. Quando sei parte di me vuol dire che tu non ci sei più. Quando tu mangi qualcosa, quando noi mangiamo qualcosa, quel frutto che mangiamo, per esempio, non esiste più, diventa parte integrante della nostra vita. Giusto? Quello che beviamo e mangiamo diventa noi. Per questo è che noi molte volte sbagliamo quando mangiamo qualcosa di non cashier. Vabbè, dai, entra poi esce. No, diventa parte di te. Quando mangiamo qualcosa, diventa parte integrante nostra, fisica e anche spiritualmente. Anche l'anima, a modo suo, si ciba di quello che mangiamo. E per questo è che bisogna fare attenzione a quello che mangiamo. Ma non è questo l'argomento adesso. Qua la Mishnesia sta dicendo che nessuno ti vuole uccidere, ma ti voglio dentro di me, sottomesso al massimo a me, perché, appunto, qualche volta ho mania di controllo, qualche volta ho troppo narcisismo, mi credo troppo e tutti devono essere sottomessi a me. Ok? A volte lo faccio perché ho paura di perderti. A volte si ama in un modo insano, in un modo tossico. A volte si ama un figlio, un marito, un padre, quello che sia. Si ama qualcuno in un modo tossico e non lo si vuole perdere. Allora si fa di tutto per sottometterlo, per fare in modo che lui non si allontani, per tagliarli le ali, come si dice, che lui non impari troppo velocemente a volare perché poi volerà via. Molte volte tante mamme lo fanno con i propri figli perché, non per cattiveri, ma perché amano talmente i figli che hanno paura che loro crescano e un giorno vanno via. Al contrario, è la natura della persona di crescere e andare via. Fa parte della vita, fa parte dell'umanità. Però certe persone non sopportano questa idea che qualcuno che loro amano prenda il volo o diventi troppo bravo che non debba più dipendere da lui e così via. Sono tante sfaccettature di come un amore può essere tossico, come nel caso che stiamo raccontando. Perciò a volte noi non ce ne accorgiamo neanche, ma non lasciamo la persona vivere. Le persone che stanno accanto le lasciamo vivere, non le lasciamo esprimersi, non le lasciamo essere indipendenti. Ti amo, ti proteggo solo finché sei mio, dentro di me o sotto di me. Ti amo finché non mi contraddici. Ti amo finché non mi vai contro. Finché fai quello che dico finché ti comporti come io mi comporto a casa mia. Perciò qua vediamo che stai attento, diciamo, alla persona, molte volte al figlio. Stai attento a non farmi fare brutte figure davanti ai miei amici, davanti alla comunità, davanti al tempio. Ma come ti vesti? Ma come ti comporti? Devi hai vestiti come me? Io sono rabbino e invece tu vai in giro con i jeans strappati e le scarpe a ginnastica e diranno, guarda, suo figlio. Molte volte può essere anche questo il caso. Perciò tutti questi tipi di esempi che abbiamo portato, non importa verso chi è, verso il figlio, verso il marito, verso chiunque sia, quando tu vuoi imporre te stesso a scapito dell'identità di qualcun altro e vuoi che lui faccia parte di te perché tu vuoi che lui sia come te o perché vuoi tenerlo sotto di te, dice il Pirkeavot, questo non è etico. Questo non è quello che la Torah ci insegna. La Torah dice proprio il contrario, di non fare questo sbaglio, di volere sottomettere le persone anche con buona intenzione. Non stiamo parlando di chi ha cattiva intenzione, stiamo parlando di chi vuole fare una cosa giusta e pensa che questa sia un'opera giusta. Dice Rabbi Hanina, il maestro che ci sta insegnando questo concetto qua, lui dice, ok, come possiamo noi insegnare alle persone di evitare questo comportamento tossico verso il prossimo? Dice la Mishnah che abbiamo letto, quando le persone avranno timore, abbiamo detto, prega per lo Stato che vada bene affinché le persone abbiano timore dello Stato, perciò tengano le regole in modo che nessuno mangi null'altro. Questo è quello che abbiamo detto, no? Perciò qua dice, Rabbi Hanina dice, cos'è l'antidoto di far sì che una persona non inghiotta l'altro, inghiottisca l'altro nel senso che abbiamo spiegato adesso? Bisogna avere timore. Ma timore di che cosa? Non tanto dello Stato, adesso parliamo di un'altra forma di Stato, timore di Dio. Quando tu hai timore di Dio, timore, abbiamo spiegato anche molte volte, che è irreverenza verso Dio, il timore di sbagliare nei confronti, noi non dobbiamo avere paura di Dio. Molte persone pensano che bisogna temere, la Torah dice che bisogna avere amore e timore per Dio, certo è scritto, ma timore non vuol dire che io ho paura che Dio mi sgridi, ho paura che Dio mi punisca. Timore di Dio? Questo è brutto, vivere con la paura di un Dio è molto brutto, non è quello che Dio vuole, sicuramente Dio non vuole che noi abbiamo paura di Lui, Dio vuole che noi rispettiamo le sue regole, che abbiamo timore, timore è una forma di rispetto, di riverenza, di fare attenzione. Io ho paura di sbagliare nei confronti di Dio per non glovinare il mio rapporto con Lui, ma non ho paura di un Dio, io ho paura di una persona cattiva, di una persona malvagia, di una persona che fa del male, di Lui ho paura, ma Dio non è questo. Ecco, molte volte noi confondiamo paura con timore, Dio non vuole far paura, Dio vuole essere rispettato, Dio ha dato delle regole e vuole che noi seguiamo per il benessere dell'umanità le sue regole, ma non vuole imporre paura alle persone, sicuramente non è questo quello che Dio vuole fare, perciò qua, ascoltate bene il collegamento adesso, attenzione, la Mishnà dice quando hai timore dello Stato, del regno o del regime, del paese dove tu vivi. La Mishnà sta tra le righe menzionando che quando noi intendiamo e scriviamo avere rispetto dello Stato, in realtà si intende avere rispetto e timore di chi? di Dio. Cosa c'entra lo Stato d'Italia con Dio? Cosa c'entra il re del Marocco con Dio, il re di altri paesi, dell'Inghilterra con Dio? Cosa c'entra il re dell'Egitto con Dio? Perché qua stiamo parlando di questo, abbi timore del tuo re, perciò abbi timore di Dio. Allora qua viene spiegato, Malchuta de Ara che è Malchuta de Rakhia, ovvero ci viene insegnato che ogni re che c'è qui giù in basso, che sia il re di Israele o il re della Persia o il re non è importante, qualsiasi re sia, lui è un'estensione del re che c'è in alto. Anche se il re è un re tiranno, un re che fa male, Dio ha detto chiaramente a Mosè abbi rispetto del faraone. Il faraone con tutto il male che ha fatto, Mosè non ha mai mancato di rispetto verbalmente o nel suo comportamento al faraone. Poi sono usciti, hanno portato le dieci piaghe, hanno distrutto l'Egitto, ma Dio non ha mai permesso che Mosè parlasse in un modo brutto o mancasse di rispetto. Vai dai faraone perché lui è il re, perciò il re qui in basso è lo specchio del re lì in alto. Ripeto, anche un re malvagio ha qualcosa di speciale, ha un qualcosa perché Dio l'ha investito. Se è un re è l'estensione del re in alto. Per darvi un esempio, ci appartiamo un attimo e entriamo in questo discorso del re, una storia. Il Balatania, il primo rebbe di Lubavitch, che ha scritto il Tani, nel 1798, è stato imprigionato dall'impero russo, perché lui era accusato di essere un pericolo per la Russia, perché lui aveva tradito, dicevano che tradiva la Russia, che voleva aiutare i nemici della Russia e tante cose. L'hanno messo in prigione, il rebbe, figuratevi. Un giorno lo zar voleva andare a vedere, sentiva parlare di questo grande uomo, voleva andare a vedere chi fosse questo Balatania, questo rabbino qua, ma non voleva che lo riconoscesse, perciò ha tolto i suoi vestiti reali e si è messo a questi semplici vestiti normali. Lui entra nella cella del Balatania, che tra l'altro Balatania era proprio, l'aveva messo in una cella buia, che lui non potesse vedere fuori, che non sapesse che ore sono, proprio come se fosse un fuorilegge, un assassino. Lo zar entra nella sua cella e di colpo il rebbe, il Balatania, subito si alza in piedi. E lo zar lì dice, beh, cosa c'è? Perché ti agiti? Perché ti alzi in piedi? Ma come? Il re è entrato, il zar è entrato, io devo alzarmi e dare rispetto al zar. E lui dice, come fai a sapere che io sono il zar? Cioè, sono qua, come hai fatto a scoprirmi? E lui gli ha spiegato che un re qui in basso, o il presidente, o quello che sia, è appunto l'estensione del re in alto, perciò bisogna dargli rispetto. E qua vediamo che il rebbe a capacità di vedere la luce, non ogni persona riesce a vedere nel re che lui è un re, l'aura o le particolarità che lui ha del re, però il rebbe che vede, non soltanto con gli occhi di carne, ma vede il DNA, vede l'anima di una persona, allora ha capito che questo non era una semplice persona, ma era un re. Questo per farvi capire appunto che, di quanto è importante la figura del re. Infatti c'è una benedizione, già che ne parliamo, c'è una benedizione in quei paesi che esiste, quando una persona vede un re di persona, c'è una berachà. E questa berachà cosa dice? Che Dio ha dato parte del suo onore a una persona carne e ossa. Perciò qua vediamo che il re non è da poco, è importante. Perciò tornando al nostro punto, si intende che timore di Hashem, se una persona, la miscina dice se tu hai timore per lo Stato, allora non vi mangerete l'un l'altro. Tradotto in un modo più profondo, vuol dire che quando tu hai timore di Dio, allora non mangerai, non inghiottirai il tuo prossimo. Perciò quello che diceva prima il Maestro, cos'è l'antidoto, cos'è il modo per evitare che appunto le persone si inghiottano l'un l'altro, avere timore di Dio. Quando tu sei timoroso di Dio, vuoi fare la parola di Dio, starai attento anche verso il prossimo di non inghiottirlo, ovvero di non fare tutte quelle cose che abbiamo spiegato prima. Perciò qua la miscina ci insegna, e tutto questo è quello che il Rebbe ci sta insegnando sulla miscina, ognuno ha la sua identità. Fatene una ragione. Ognuno ha la sua anima, ognuno ha il suo senso di essere, ognuno ha un motivo, un senso per essere in questo mondo. Lascialo vivere, lascialo vivere, perché Hashem vuole che ognuno ha la sua vita. Dio non ci ha fatti crescere, nascere insieme. Ognuno è singolo, perché ognuno deve essere individuale, ognuno ha la sua vita. Certo è bello quando si è uniti, l'unione fa la forza, l'idea familiare. Tutto è vero, ma non a scapito della tua personale, della tua personalità, della tua esistenza, della tua identità. Perciò non mischiamo il fatto che siamo una famiglia, perciò dobbiamo comportarci tutti in modo uguale. Non è detto. siamo una famiglia, sangue dello stesso sangue, ma possiamo vedere che una famiglia ha otto figli, tutti diversi. Non c'è una mitzvah che tutti i figli siano uguali l'un l'altro. Non è obbligatorio che ogni figlio sia identico al padre. Certo, tutti vorremmo che i nostri figli siano identici a noi, ma non possiamo imporre al figlio, per esempio, di essere esattamente e di percepire, di sentire quello che sento io. Non è giusto, non è umano, non è etico. Perché? Perché Hashem ha dato a tutti individualità, la propria identità e vuole che così rimanga. Hashem non ha mai scritto, sii identico al tuo padre, sii identico al tuo maestro. Non l'ha scritto da nessuna parte. Perciò, visto che Hashem ha dato ad ognuno identità propria e ognuno di noi è Heleke Lokah, siamo una parte di divinità, come puoi inghiottire una persona. Ogni persona è Dio, è un piccolo Dio, perché ha divinità in sé. L'anima è divinità. Se tu vuoi inghiottire questa persona che diventi come te, vuol dire che tu vuoi inghiottire il divino? Vuoi inghiottire Dio? Non lasci spazio neanche a Dio? Quando vediamo una persona non dobbiamo vedere il suo fisico, il suo corpo che è qualcuno, dobbiamo vedere che lui è Dio. Dobbiamo vedere la divinità che c'è in lui e trattarlo come trattiamo Dio. Qualcuno dice parolacce a Dio? Mai sia. Allora, perché a un umano riesce a dire parolacce? O le cose brutte che facciamo alle persone? Perché non vediamo che questo qua è una divinità, perché non capiamo che abbiamo davanti a noi l'estensione di Dio, una particella di Dio. Storia. Storia. Un maestro del passato si chiamava Rabbi Meir della città di Primislan. Lui aveva un seguaccio, aveva diversi seguaci. Uno di questi seguaci aveva aperto un negozio, un business, un lavoro, che ne so che, uguale, un negozio uguale a un altro ebreo di quella città lì. La città era grande. Lui aveva la sua zona, lui aveva in un'altra zona aperto un negozio simile. Questo ebreo va da questo Rabbi Meir e dice ma il tuo seguace ha aperto un negozio identico al mio. Dili subito che deve chiuderlo, perché lui mi recherà dei danni e così via. Il maestro Rabbi Meir dice a questo ebreo che viene a lamentarsi, dice vieni che ti racconto una storia e lo insegna così. C'era una volta, un aneddoto, no? Dice, c'era una volta un cavallo che lui stava bevendo nel fiume, diciamo, sta bevendo acqua. Di colpo questo cavallo, che ha messo il muso nell'acqua, comincia ad agitarsi, a scalciare. Cosa era successo? Il cavallo aveva visto il suo riflesso nell'acqua e pensava che ci fosse un altro cavallo che gli stesse rubando l'acqua. Cosa fa? Comincia a scalciare sull'acqua per mandare via quest'altro cavallo. Perché pensava che dentro all'acqua c'era un altro cavallo, no? Quando dai calci all'acqua si agita, ovviamente l'acqua si muove, la sabbia sotto l'acqua viene a galla e così via. E allora lui non vede più l'altro cavallo perché l'acqua non è più nitida, è sporca di sabbia. Perciò non vede più l'immagine, è contento che lui è riuscito a mandare via il suo concorrente, l'altro cavallo, e adesso beve beatamente, senza nessuno che dà fastidio. Allora questa è la storia che Rabbi Meir sta raccontando a questo ebreo che si lamenta dell'altro e dice, guardiamo gli insegnamenti di questo aneddoto. Insegnamento numero uno, il cavallo cosa vede? Il proprio riflesso, non capisce che è lui, pensa che sia un altro e ha paura. Cos'è l'insegnamento numero uno? A volte noi abbiamo paura di noi stessi, del nostro riflesso. Noi in qualcun altro vediamo qualcuno che ci fa paura, ma in realtà la paura è dentro di me, nella mia psiche, nel mio modo di vedere. Lo vedo in lui, ma sono io il problematico che ho paura di qualcun altro, del mio riflesso. Poi gli dice, insegnamento numero due, lui cosa ha fatto? Ha scalciato, era felice e contento perché pensava che ha mandato via il concorrente, ma alla fine cosa ha fatto? Ha bevuto acqua sporca, perché la terra si era alzata e lui ha bevuto acqua con terra. Allora, l'insegnamento numero tre, gli dice il maestro, sappi che c'è acqua al mondo per tutti. Non devi avere paura che qualcuno venga a rubarti l'acqua, in questo caso che qualcuno venga a rubarti business del tuo negozio. Dio non è limitato, Dio può dare a tutte e due sostentamento, ricchezza a tutte e due. La città è grande, certo ci sono delle regole, attenzione, a Sagad Vul, che una persona non può fare qualcosa per danneggiare un altro, sicuramente, ci sono delle regole ovviamente, ma in quel caso lì la città era grande, c'era posto per due commercianti della stessa cosa. Perciò qua vediamo da questa storia che a volte qualcuno che è vicino a noi la pensa in un modo diverso da noi. Ripeto, il figlio, l'alunno, il marito, non dobbiamo perdere la nostra stabilità, la nostra tranquillità, serenità, non dobbiamo impazzire, dobbiamo dargli spazio, chiunque abbiamo a che fare e vediamo che non segue la nostra strada, dobbiamo dargli lo spazio, dobbiamo ascoltare le sue motivazioni, non possiamo dire no, tu stai sbagliando con te e non voglio parlare. Non è vero, magari molte volte un figlio può avere ragione dal suo genitore, magari il genitore sta sbagliando. Perciò dobbiamo dare spazio alle persone, dobbiamo ascoltarlo, forse ha ragione, ma forse no. Ma anche se non ha ragione non possiamo sottomettere una persona, annullare la sua persona e dirgli che non esiste, tu devi pensare come me. No, sii sereno, tuo figlio sbaglia, anche se sbaglia, ha il suo diritto di sbagliare. Dio ha dato libertà di scelta alle persone, molte volte la persona fa la scelta sbagliata e sbaglierai. Allora, sbagliando si impara. Ovviamente dobbiamo indicare la strada giusta alle persone, ai nostri figli, eccetera, ma non possiamo imporre, purtroppo non sono degli oggetti, purtroppo, una persona non è un oggetto. Non puoi imporre il tuo modo di vedere su una persona. Questo è quello che la Mishnach vuole dire a proposito di timore di Dio. Timore di Dio vuol dire rispetto per il prossimo. Come noi possiamo in verità rispettare il prossimo e non inghiottirlo? Quando io ho timore di Dio, vuol dire rispetto, amo Dio e faccio attenzione a non fare qualcosa che Dio non vuole, allora riuscirò a avere rispetto per il prossimo. La mia paura di sbagliare nei confronti di Dio mi porterà ad avere rispetto per il prossimo, perché, come abbiamo detto, se non fosse per Dio, uno si mangerebbe l'un l'altro. Perciò come facciamo a non mangiarci l'un l'altro? Se non lo fai per il rispetto del prossimo, almeno abbi rispetto di Dio, abbi timore e reverenza per Dio, almeno così ti porterà a rispettare anche il prossimo, se già non riesci a farlo da solo. La Torah ci insegna che non puoi vivere la vita per un'altra persona, ma non puoi togliere la sua identità, non puoi soffocarlo. Anche se per te è una grande sofferenza, devi lasciare lo spazio alle persone. Un'altra storia. La storia del Bal Shem Tov, vediamo che ore sono, ok abbiamo tempo. Il Bal Shem Tov racconta una storia. Alla sua epoca c'erano due persone, due vicini di casa, che abitavano nella stessa strada. Uno era un grande maestro, un grande rabbino, la mattina presto andava, studiava a Torah, insegnava a Torah e tutti lo guardavano. L'altro chi era? Era un semplice commerciante. Vendeva, comprava, vendeva per mantenere la sua famiglia. Ogni giorno, quando uscivano di casa, si incontravano regolarmente, uno andava al tempio, l'altro andava a vendere materiale. E ogni volta che il rabbino lo vedeva, si sentiva come, non diceva niente, ma dentro di sé sentiva come se lui fosse superiore. Dice, guarda io studio Torah, sono impegnato con le parole di Dio e questo qua va in giro a vendere acqua, a vendere ghiaccio, quello che sia. Si sentiva superiore a lui. E ogni giorno regolarmente si incontravano. Un giorno, succede che dopo un po' di tempo, muoiono. Dopo 120 anni, muoiono e salgono in cielo. Allieva il rabbino e pesano le sue azioni, le sue buone azioni, le sue... Però vedono che la bilancia non è proprio pari. Va da più peso sulla parte negative delle cose che lui faceva. Ma come? Io rabbino? Nel stesso momento arriva l'altro, il commerciante. Mettono sulla bilancia tutte le sue buone azioni, le cattive azioni, e vedono che tutto il peso va sulle sue buone azioni. Ma come? Come è possibile che il rabbino abbia più cattive azioni di questo sempliciotto? Allora, l'angelo insegna così. Il rabbino, quando si sentiva superiore a lui, perché lui era rabbino, studiava Torah, e lui invece non studiava Torah, non faceva remitzvot, questa sua superbia, l'ha portato a essere inferiore. L'altro invece, quando vedeva il rabbino ogni giorno, diceva, ah, come vorrei essere come lui, che ha tempo di studiare Torah, e riesce a fare remitzvot, io sono ignorante, devo mantenere la mia famiglia, vado a vendere, vorrei tanto essere come lui, uno che studia e capisce la Torah, ed è vicino a Dio. Ogni giorno faceva, ah, questo suono di dolore interno, dice l'angelo, questo tuo, ah, che tu soffrivi, che non eri come lui, questo ti dà più merito di lui, perché lui ti ha schiacciato, anche se verbalmente non ti ha mai detto niente, ma dentro di sé si sentiva di poterti inghiottire, come stiamo spallando, e questo l'ha penalizzato, tu invece che eri in basso, ma soffrivi, volevi essere in alto, alla fine ti ha portato in alto. Morale, anche uno studioso, anche un rabbino, in nome della santità, in nome di Dio, in nome della giustizia, a volte perde il barlume della verità e annulla una persona e questo non va bene nessuno ha il diritto di annullare, di sottomettere un'altra persona un'altra storia c'era all'epoca del del Rebbe nostro il Rebbe abitava qualche strada più in là del suo tempio e ogni Shabbat alle 8 meno 10 usciva di casa in modo che arrivava al tempio per le 8 poi andava in ufficio, si preparava, studiava poi andava a fare la preghiera. Succede che ogni Shabbat incontrava questo bambino, questo ragazzino che andava in un'altra sinagoga e col tempo si era instaurato una sorta, diciamo così, di amicizia che che alla fine il bambino sapeva che alle 8 meno 10 il Rebbe esce anche se era in anticipo aspettava davanti alla porta del Rebbe salutava il Rebbe, il Rebbe lo salutava e ognuno andava nella propria sinagoga col passare del tempo si è instaurato il fatto che dei ragazzi della Yeshiva del Rebbe scortavano il Rebbe avanti e indietro da casa al tempio e tempio a casa per sicurezza anche per rispetto al maestro e così via cosa che prima non c'era al primo Shabbat quando questi ragazzi qua della Yeshiva hanno visto che c'è questo bambino che si ferma e fa aspettare il Rebbe lo fa salutare hanno subito quando il Rebbe non stava guardando quando il Rebbe è andato un po' avanti l'hanno un po' diciamo sgridato hanno detto ma lascia stare il Rebbe in pace non si può avere non è possibile che il Rebbe per il fatto che un saddick non può avere una vita privata al tempio vanno tutti da lui lettera a non finire e questo e quest'altro almeno lasciatelo in pace almeno da casa al tempio dateli un attimo di tranquillità praticamente hanno cercato di persuadere questo momento di non venire più davanti a casa del Rebbe a disturbare lasciatelo in pace un po' di rispetto per il Rebbe il Rebbe mentre camminava sentiva che c'era un po' di movimento di rumore voce alzata si gira e chiede cosa succede? cosa è? perché urlavate? perché alzavate la voce? allora i ragazzi hanno detto abbiamo chiesto al bambino di non venire a disturbare più il Rebbe e le aveva detto non immischiatevi va bene così e ha detto al bambino non ti preoccupare vieni quando vuoi non mi dai fastidio il Shabbat dopo il Rebbe magari dubitava che forse il bambino si era fatto intimorire dai ragazzi non sarebbe più venuto cosa ha fatto il Rebbe? è uscito qualche minuto prima delle 7.50 per evitare che magari il ragazzo passa un po' prima per non disturbare la va via prima il Rebbe ha aspettato davanti alla porta di casa sua finché il bambino passasse per salutare e scambiarsi i saluti e così continuò per anni e anni questo incontro di qualche istante tra il Rebbe e questo bambino che man mano appunto cresceva allora cosa cos'è l'insegnamento? si una persona piacevole si be nice si buono è vero sei un Rebbe e magari i tuoi ragazzi l'hanno fatto per il tuo bene i ragazzi che sucivano volevano per il bene del Rebbe ma una persona deve guardare anche il prossimo non ah io per il mio onore per la mia io sono Rebbe no si è una persona che vede il prossimo non schiacciare il prossimo un Rebbe con un bambino si anche se io sono Rebbe tu sei un bambino ti do un attimo della mia vita non mi costa niente perciò bisogna essere capaci di lasciare spazio le persone e di essere gentili e questa è una cosa vitale in una vita di matrimonio se ognuno vuole il suo spazio non può pretendere di tenersi il suo spazio sottraendo lo spazio dell'altro il matrimonio si basa su ognuno ha il suo spazio e nessuno deve entrare nello spazio del prossimo perciò se vuoi il tuo di spazio dai spazio all'altro penultima storia sempre direbbe quando negli anni settanta se non sbaglio quando in Persia è stato lo Shah della Persia che era una brava persona che era buono con gli ebrei è stato ha dovuto scappare via perché sta avvenendo un regime di Khomeini e così via forse era più di settanta forse inizio ottanta fine settanta mi sfugge la data adesso allora il Rebbe con i suoi emissari erano molto addentrati nel aiutare gli ebrei 1979 grazie 1979 dalla regia ci scrivono perciò il Rebbe aveva organizzato che questa organizzazione che aiutassero gli ebrei dall'Iran i miei genitori sono dall'Iran ma loro erano già usciti da prima molto prima però la so da vicino in questa storia il Rebbe aveva organizzato che i suoi rabbini di Chabad di Rebbe aiutassero gli ebrei persiani di uscire dall'Iran e li accoglievano perché lì ormai c'era difficoltà di essere come veniva dal regime di Khomeini erano in pericolo tanti facevano scalo alla Dispoli vicino a Roma c'è un subborgo un paesino che si chiama la Dispoli lì per tanti anni c'erano russi e persiani che scappavano dal loro paese e trovavano alloggio in Chabad in Chabad avevano aperto un centro alla Dispoli era un centro di accoglienza che poi smistavano e andavano un po' in Israele un po' in America dove le persone volevano andare ok quelli che arrivavano dall'Iran in America ospiti del Rebbe di Chabad eccetera gli davano case gli davano tutto lavoro col tempo oggi a Kraunais nella città del Rebbe è pieno di queste famiglie persiane il Rebbe ha dato diciamo ha detto a chi organizzava le cose mi raccomando quando è arrivato a Pesach fate sicuro di cucinare per loro riso per capire meglio secondo il rito aschenazita o il rito Chabad Lubavich a Pesach non si mangia riso invece secondo i persiani o diversi sefaraditi non tutti il riso invece è permesso diversità di usanze il Rebbe poteva dire qui è casa nostra noi siamo aschenaziti il nostro rito non ci permette di mangiare riso noi gli abbiamo salvato la vita gli diamo casa alloggio loro devono stare alle nostre usanze invece no guardate la grandezza del Rebbe è emozionante il Rebbe ha spiegato anche se la nostra cultura l'usanza è che assolutamente non possiamo mangiare riso ma loro possono mangiare riso e anche se sono ospiti nostri noi dobbiamo dare al loro calore umano dobbiamo fare di tutto per farli sentire a casa loro sono profughi stanno scappando dal loro paese hanno lasciato tutto lì vogliamo togliergli anche il piacere di un piatto che per i persiani è molto importante per i persiani il riso gli togli il riso gli hai tolto la vita allora Rebbe ha spiegato bisogna capire queste persone e dargli il riso specialmente in questo momento che loro sono appena scappati va bene così vedete questa è la grandezza di un maestro che non ti vuole appunto risucchiare non ti vuole cos'era per la che abbiamo usato inghiottire ti lascia il tuo spazio la tua usanza è questa benissimo tutti i vari chassidim molte volte dagli altri tipi di chassidim venivano a far parte del gruppo di Lubavish perché volevano studiare e Rebbe ha detto chi vuole venire a far parte a studiare con noi a vivere con noi che tenga i propri vestiari perché i diversi chassidim hanno le pehot hanno capelli di pelliccia cosa che noi non abbiamo hanno usi e costumi diversi da noi e Rebbe ha sempre detto chi vuole venire da fuori è benvenuto che tenga il suo vestiario che tenga la sua usanza noi non vogliamo imporre il Lubavicismo a nessuno questo è una persona che ha capito che bisogna lasciare spazio alle persone non dobbiamo conquistare il mondo che tutti si vestano come noi e pensino come noi sì vogliamo insegnare la chassidut vogliamo che più persone studiano il tania o il pensiero chassidico sì ma non possiamo imporre di vestirci come noi e di fare esattamente quello che noi facciamo questo è quello che Rebbe ci ha insegnato da sempre vivi e lascia vivere tu insegna positività poi la persona prenderà dalle tue parole quello che lui tu continua a dare e lui prenderà infine l'ultima storia e con questo concludiamo Rav Lau il grande Rav Lau quello che era il caporabbino di Israele e suo papà e suo figlio è capito di Israele il caporabbino ma noi parliamo essere padre uno degli oratori forse il migliore oratore nel mondo ebraico forse lui comunque un grande personaggio Rav Lau era un bambino uno dei bambini più giovani che è stato salvato da Buchenwald i suoi genitori padre e madre erano stati uccisi nei campi lui e suo fratello sono rimasti vivi e lui quando è uscito quando è finita la guerra era un bambino forse di 6-7 anni in qualche modo lui arriva in Israele arriva in Israele e arriva il momento che deve fare il Bar Mitzvah all'età di 13 anni lo preparano c'è un maestro che gli insegnava di come leggere la Parashah la Torah ogni Shabbat leggiamo un pezzo della Torah arriva il fatidico momento del suo Bar Mitzvah di Shabbat e il Tempio era pieno zeppo perché perché era un Bar Mitzvah speciale del bambino più giovane scampato alla Shabbat fa il Bar Mitzvah in Israele più di così cosa c'è? Tempio pieno 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 in quella sinagoga c'era un anziano che lui ogni settimana lui leggeva cantava la Torah hanno dimenticato di dirgli che questo Shabbat lui non deve preparare la Torah che lui non leggerà perché c'è un bambino che festeggia il Bar Mitzvah allora la Torah la leggerà il bambino hanno dimenticato una svista arrivano al Tempio tirano fuori la Torah dall'armadio la mettono sul tavolo per leggere questo povero il vecchietto va come ogni Shabbat per leggere la Torah e dicono guarda che tu oggi non leggi oggi è il bimbo che fa il Bar Mitzvah e lui questo anziano che per lui era molto importante questa cosa ma come? non mi avete avvertito io ho preparato la Parashah e poi lo faccio sempre io a un certo punto il rabbino il futuro rabbino il bambino Lau quando ha visto questa storia qua che questo anziano sta per essere un po' svergognato un po' dispi ha detto sai cosa non mi sento di leggere c'è troppa gente sono intimorito non sono sicuro che sono pronto per favore puoi leggere tu ovviamente non era vero ma lui già a 13 anni aveva la sensibilità di capire la situazione che c'era un anziano che ci teneva e lui ha detto avrò tante occasioni di leggere la Torah e così fu è diventato rabbino poi rabbino capo poi rabbino capo di Israele vediamo tutte queste storie ci insegnano che quando dai a qualcun altro non perdi mai quando ti inchini un pochettino al prossimo e lasci spazio alle persone non perdi mai guadagni soltanto mi viene in mente adesso una cosa sempre nel Pirkei Avot nelle Massime Padre racconta quando ai tre regalini quando si andava tre volte nel santuario Pesach Savot e Sukkot c'è scritto che era così pieno che quando gli ebrei erano nel santuario era così pieno durante le festività che erano tutti schiacciati erano stretti quando stavano in piedi erano stretti però c'era un miracolo quando a Kipur si dovevano inchinare nelle varie preghiere che ci si inchinava si prostrava per terra di colpo c'è scritto lì che quando erano in piedi erano stretti ma quando si prostravano erano larghi c'era spazio per tutti doveva essere contrario no? quando uno si piega si si prostra sul terreno occupa forse due o tre volte di spazio in più di quando è in piedi no? però qua c'era un miracolo cos'era un miracolo? l'insegnamento che cos'è? quando tu stai in piedi vuol dire quando tu stai eretto sulle tue idee così è così si fa io ho ragione devi essere come me allora si sta stretti vuol dire quando tu ti vuoi imporre la vita diventa stretta non c'è spazio per tutti diventa antipatico ma quando tu ti inchini ti prostri ti prostri vuol dire va bene fai quello che vuoi allora c'è spazio per tutti miracolosamente tutti hanno piacere di stare c'è spazio per tutti ognuno ha la sua idea ognuno ha il suo modo di fare e questo è l'insegnamento è vero molte volte abbiamo a che fare con persone che sbagliano con persone che non seguono la Torah e così via è vero noi sappiamo la verità loro ancora no ma il fatto che noi sappiamo la verità non ci dà il diritto di schiacciare un'altra persona di dirvi che sbaglia di denigrarlo no perché più si denigra una persona e più questa persona si allontana e meno capisce i tuoi insegnamenti non dobbiamo inghiottire le persone non è una guerra che dobbiamo mettere le bandierine e conquistare persone tu conquisti una persona quando lo innalzi quando gli dai amore e insegnamento se vorrà coglierlo bene se non lo coglierà Dio è grande avrà tempo per aprire gli occhi però noi da parte nostra non dobbiamo mai cercare di imporre niente a nessuno possa Shem veramente darci la forza di poter andare avanti a insegnare con amore con serenità e tranquillità anche quando veramente non abbiamo persone che la pensano come noi che Dio ci dà il barlume e la lucentezza di capire che lasciando lo spazio ognuno arriverà grazie a tutti condividiamo la lezione Shabbat Shalom sigla sempre musica senza strumenti grazie a tutti